Una seconda puntata serale di Amici che riporta in totale pareggio un risultato che veniva in vantaggio i bianchi di Morgan, infatti ieri il successo parziale si è aggiudicato ai Brew, che hanno invece Elisa, vi ricordo, come direttrice artistico. Il parterre degli ospiti era molto molto competente, molto molto elevato, per esempio Fabrizio Moro, Francesco Lenga, Matt Dillon, che ha interpretato a perfezione la parte di quinto giudice della puntata. Il momento però più entusiasmante è stato quello della eliminazione dello strego, lo strego infatti sarebbe andato al baltaggio con Thomas Bocchi in pane, il brano scelto da Tenko non è servito per al cantante a rimanere in gara. La giuria infatti ha preferito Thomas che ha portato il brano intitolato Fast Car di Jonas Brew. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e a presto.